Amici Trevi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì che purtroppo sarà l'ennesima giornata di maltempo in gran parte d'Italia. La pressione atmosferica sul Mediterraneo occidentale resta bassa e da noi insisteranno nuvole e piogge per gran parte della giornata. Vediamo la previsione sulla nuvolosità, come vedete saranno compatti i sistemi nuvolosi che interessano il nostro paese, quindi ce n'è per tutti da nord a sud, giornata davvero autunnale grigia accompagnata anche da parecchio vento, vento di scirocco che porta anche le piogge, precipitazioni diffuse sul nostro paese con i fenomeni più intensi al nord e sul versante tirrenico in particolare. Le regioni del Medio Tirreno potrebbero vedere anche qualche temporale, quindi precipitazioni, ripeto, di moderata o forte intensità. Quindi in definitiva giornataccia, quella di giovedì diciamocela tutta, con piogge diffuse in tutto il paese anche sotto forma di temporale, temperature non oltre 20-21 gradi, attenzione anche al vento che sofferà sostenuto dai quadranti meridionali, non raggiungerà comunque le intensità che abbiamo toccato nella giornata di lunedì. Con questo è tutto, ma per i dettagli vista la situazione vi consiglio davvero di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.